pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati l'incontro di gesù con marta e maria è una splendida occasione per rivedere un po la nostra vita e ricentrarla sull'essenziale dato che spesso rischiamo dispersioni in eccessive ansie e preoccupazioni vediamo un po marta ha accolto in casa gesù ma era presa dai molti servizi invece maria stava ai suoi piedi ad ascoltarlo chiariamo subito il punto non è contrapporre il fare al pregare la contemplazione all'azione queste sono sorelle proprio come marta e maria sono dimensioni essenziali della vita cristiana ed è importante che trovino armonicamente spazio nella nostra vita spirituale il problema è quando marta prende il sopravvento su maria luca infatti per esprimere l'atteggiamento di marta usa il verbo greco perispaomai che significa essere distratti essere presi da molte cose è possibile che anche noi abbiamo accolto gesù in casa nella nostra vita ma non lo ascoltiamo e siamo troppo presi da tante cose purtroppo sì quante persone ad esempio dicono ma io devo lavorare devo portare i soldi a casa corro tutto il giorno devo portare i figli avanti e indietro non ho che il sabato e la domenica per sistemare le faccende non ho tempo di andare a messa di pregare sì c'è gesù ma io ho da fare questo rischio può toccare anche un sacerdote un religioso una religiosa essere così preso dalla pastorale dalla burocrazia dalle cose da fare da perdere di vista la dimensione spirituale non si ha mai tempo per pregare non si prega più la liturgia delle ore o la si recita tipo gran premio di monte carlo non ci si ferma mai in adorazione non si celebra la messa o la si celebra male o si ha comunque sempre la mente il cuore occupati da tante cose insomma si fanno tante cose anche per gesù ma si perde di vista gesù dunque miei cari una prima domanda importante è quali sono quelle cose alle quali do troppa importanza che mi distolgono dall'essenziale marta dunque è troppo presa dalle faccende e dopo un po iniziano a salire senso di solitudine e rabbia fatta sia avanti dice gesù ma non ti curi che mia sorella mi ha lasciata solo a servire vi è mai capitato di sentirvi soli in quello che fate lavori studi sistemi casa curi figli porti avanti la tua missione ma ti senti solo ti senti sola e sale un tutto io vorrei proprio vedere se mi fermassi come farebbero eppure stai facendo le cose giuste all'inizio le facevi volentieri poi sono iniziate a pesare hai iniziato a perdere il senso il gusto di ciò che fai e per chi lo fai e magari poi è iniziato anche il confronto con gli altri ed ecco che man mano la rabbia è cresciuta contro gli altri ma anche contro il signore al quale in fondo marta sta dicendo gesù ma non ti importa di me chissà quante volte magari con altre parole lo abbiamo detto anche noi signore ma è possibile che il mio confratello che la mia consorella non mi aiuta mai che mio marito non mi dà mai una mano non mi capisce che mia moglie non è mai contenta di solito quando la marta nevrastenica prende il sopravvento in noi tendiamo a cercare i colpevoli di questa rabbia sbagliando solitamente mira perché questa frustrazione è anzitutto sintomo di qualcosa che non va in noi perciò come prima cosa dovremmo fermarci e chiederci con umiltà qual è il mio problema di cosa ho bisogno cosa sto trascurando di veramente importante e insieme a ciò mettersi in preghiera in ascolto del signore magari aprendo anche il cuore con un padre una madre spirituale per rivedere la nostra vita le nostre priorità quindi potrebbe anche essere utile aprirsi agli altri in modo costruttivo manifestando ad esempio i nostri bisogni e chiedendo umilmente aiuto ma ad alimentare questa frustrazione di marta c'è anche un altro punto marta è convinta di aver ragione vedete secondo la mentalità ebraica con l'ospite doveva stare l'uomo la donna doveva stare dall'altra parte a preparare addirittura un rabbino non insegnava di solito ad una donna gesù invece viene a scardinare questa mentalità maschilista e riabilita la donna ridonandole la dignità che le propria infatti stava lì ad insegnare a maria che lo ascoltava come discepola ma appunto marta che è figlia di questa cultura appoggia la sua rabbia sul senso di giustizia cioè pensa di aver ragione pensa che sia sua sorella maria ad essere nel torto che sta sprecando tempo quante volte ce la prendiamo con gli altri pensando che stiano sbagliando quando invece non stanno sbagliando anzi magari stanno facendo meglio di noi solo che noi vediamo le cose in funzione dei nostri schemi e dei nostri parametri ecco perché ci vuole l'umiltà di mettersi in ascolto di sé degli altri e di dio altrimenti il rischio è implodere nel nostro super io ed ecco la risposta di gesù marta marta tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose anzitutto ti preoccupi il verbo greco è merimnao che indica preoccupazione ansietà quante volte anche noi viviamo preoccupati come dice la parola stessa preoccupati occupati già prima dalle cose proiettati e mentalmente incastrati in quelle cose che accadranno o che forse non accadranno mai alle quali però diamo troppo peso ed eccoci preoccupati di come andranno le cose dall'esito degli esami di cosa potrà accadere dimenticandoci della provvidenza del padre e di affidarci al padre siamo così presi da un ipotetico e minaccioso futuro da perderci la gioia di vivere bene il presente e chissà quante volte queste preoccupazioni sono caricate da ansietà spesso legata al ritorno d'immagine chissà magari marta aveva paura di fare brutta figura ad esempio quante mamme vivono in maniera iper ansiosa l'andamento dei loro figli perché in fondo temono di fallire come madri o quanti caricano le situazioni di quell'ansia da prestazione del dover fare bella figura del dover riuscire pena la svalutazione di sé ma il nostro valore sta forse nei risultati se così fosse nostro signore umanamente parlando dovrebbe essere il primo grande fallito dato che ai piedi della croce dopo tre anni di predicazione guarigioni c'erano soltanto tre donne e il discepolo amato ma cari fratelli e sorelle il nostro valore non sta nel mero risultato delle cose sta nel nostro essere persone ancor più nel nostro essere figli di dio e se mai sta nella bontà delle scelte che prendiamo e nell'impegno che mettiamo ad esempio uno studente può aver preso 30 all'università ma non aver aperto libro o essere stato raccomandato o aver preso 22 ma averci messo tutto il cuore cosa vale di più davanti a dio cari fratelli e sorelle arrivare a questa libertà interiore propria di chi si sa amato e non cerca se stesso in ciò che fa ma di agire per amore di dio e degli altri è un cammino che dura tutta la vita a noi volerlo percorrere appoggiandoci umilmente alla provvidenza del padre proprio come dice la scrittura umiliatevi sotto la potente mano di dio gettando in lui ogni preoccupazione certi che egli ha cura di voi un bel esempio a tal proposito è quello di papa francesco intervistato sul come facesse a dormire visti tutti i problemi della chiesa rispose il sonno non me lo tolgono io metto ogni cosa nelle mani di dio poi vado a dormire se ho un problema più grave lo scrivo su un bigliettino lo metto sotto la statuina di san giuseppe dormiente e gli dico sognami tu la soluzione che bell'esempio di fiducia e di fortezza attenti qui non significa non fare nulla tanto c'è dio ma metterci tutto il cuore affidando tutto di tutto cuore a dio non solo marta è anche agitata la agitazione è uno stato d'animo di irrequietezza che porta a una eccessiva foga nelle cose mettendo magari troppa energia in cose di poco conto una frenesia che porta a fare cose a ripetizione a fare velocemente ciò che faccio perché penso già ad altro che bello imparare invece a dare alle cose il giusto valore e fare ogni cosa a suo tempo e se non dovessimo arrivare a far tutto mettiamo un punto e domani è un altro giorno ci farà bene dunque chiederci che cosa c'è che mi preoccupa tanto cosa c'è che mi da tanta ansietà e qual è quel peso che posso consegnare a dio con più fiducia e gesù continua una sola è la cosa necessaria maria si è scelta la parte buona che non le sarà tolta ricordiamo maria non si beava di un dolce fare nulla ma era ai piedi di gesù che lo ascoltava che lo contemplava potremmo dire che maria prima si lascia parlare al cuore quindi inizierà ad agire secondo quelle parole maria prima si lascia amare prima si lascia illuminare sul senso del reale quindi inizierà a fare ci sono tante persone che fanno molto ma ascoltano poco che lavorano tanto pregano poco che si riempiono di attività ma non di ciò che dio vorrebbe da loro che parlano di dio ma si lasciano parlare poco da dio ecco miei cari cos'è davvero necessario per la nostra salvezza una cosa la relazione con dio in primis abbiamo bisogno di pregare di ascoltare la sua parola abbiamo bisogno che la parola di dio penetri nel nostro cuore che lo fecondi che lo risani che lo orienti cari fratelli e sorelle maria ha capito che solo ai piedi di gesù si capisce qualcosa che solo a partire da lui prendono luce e senso le cose che si vivono che solo a partire da lasciarsi amare si può davvero amare maria si è scelta la parte buona che mai le sarà tolta quella che solo gesù può dare che aiuta far sbocciare la vita e a resistere anche nelle prove della vita che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti